Paolo De Martino, buonasera. Buonasera a tutti. E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo libro L'amore in uno sguardo, pubblicato dall'editore veronese Gabrielli in cammino con Matteo. Leggo una risvolta di copertina che Paolo De Martino, professore di religione, sposato con due figli dopo il baccalaureato in filosofia all'Università Pontificia Salesiana, ha conseguito il baccalaureato in teologia alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Ora sì, sono certo che qualche ascoltatore avrà detto, ma baccalaureato, ecco, ma che sarà mai? Perché è una definizione, una dizione non propriamente comune. Che cos'è? Ce lo può spiegare Paolo De Martino? Diciamo che un titolo di studio ecclesiastico potremmo tradurlo con la laurea breve, diciamo così, nel campo civile. Ecco, è la laurea breve in teologia e anche la laurea breve in filosofia. Lei è stato ordinato diacono permanente nel 2015, attualmente responsabile dell'Apostolato Biblico della Diocesi di Torino. E adesso, a proposito di apostolato e di cammino, che cos'è l'Apostolato se non un cammino? E lei sceglie di farci camminare in questo libro insieme con Matteo. Già precedentemente lei ci ha fatto camminare con Pietro, in cammino con le nostre fragilità, e poi ci ha fatto camminare con Luca. Adesso è il turno di Matteo. E Matteo, con il suo Vangelo, ogni Vangelo ha la sua particolarità, e andiamo a scoprire la cifra distintiva di questo Vangelo. Qual è Paolo De Martino? Sì, Matteo, che è il Vangelo di questo anno liturgico, il Vangelo che stiamo leggendo quest'anno, è un personaggio, devo dire, molto caro, perché non si aspettava la salvezza, e nemmeno la meritava. Ecco, lui è la classica persona che sapeva di non poter far nulla per meritarla. Potremmo dire che era uno dei tanti casi disperati agli occhi di Dio e anche degli altri, ma la sua durezza, diciamo, si schianta in un attimo quando incrocia lo sguardo di Gesù di Nazareth. Lui che era abituato a essere insultato, perché? Perché era un collaborazionista, ladro, per cui non meritava, diciamo, alcuna compassione. Era un uomo di finanza, potremmo dire. Sì, era un uomo di finanza che sostanzialmente prendeva le tasse per conto dei romani e degli ebrei, lui che era ebreo e ci faceva anche la cresta sopra. Ecco, diciamo così, era una persona abituata ad essere insultata, diciamo così, dai suoi corregionali, ma diciamo così che la sua durezza si schianta appunto quando incontra e incrocia lo sguardo di Gesù di Nazareth, lui che, ripeto, non era abituato ad essere amato. Invece, questo maestro un po' strano, con uno sguardo, entra nella sua vita e la sconvolge. E come ha sconvolto la vita di molti di noi, in qualche maniera potrei dire anche la mia. Lei apre il suo libro nell'introduzione con queste parole. Una delle cose che periodicamente è messa in discussione è l'attendibilità dei Vangeli, la storicità di Gesù, la sua esistenza. Certo, qui il confronto, il dibattito è molto acceso ed è normale ed è anche bello che ci sia questo confronto sulla messa in discussione l'attendibilità dei Vangeli, della storicità di Gesù e così via. Però Marco ci mette, cioè Matteo, Matteo ci mette qualche cosa di suo, ovvero l'esperienza. E qui la parola esperienza ha un valore importante nella narrazione del suo Vangelo. Sì, perché Matteo, a dispetto di una cosa di cui si crede spesso, cioè che Matteo sia stato il primo evangelista, non è vero. È il primo in ordine che troviamo nei Vangeli, ma il primo evangelista è stato Marco. Ecco, Marco è il primo che scrive, dopodiché scrive Matteo. Perché Marco non ha conosciuto Gesù di Nazareth, invece Matteo sì. Matteo racconta davvero quella che è la sua esperienza, perché in fondo i Vangeli non sono altro che il racconto dell'esperienza di fede che hanno fatto quelle persone. Lui racconta la sua storia, lui racconta la sua storia riletta alla luce di Dio, sostanzialmente. Matteo, che parla degli ebrei, ci tiene a dire, guardate che è davvero il sito Gesù di Nazareth e io ne ho fatto esperienze e vi racconto com'è andata. Anzi, è bellissimo leggere la chiamata di Matteo raccontata da Matteo stesso, cioè lui stesso che racconta la sua chiamata. E ci ricorda che tutti i Vangeli non sono altro che l'esperienza che ognuno fa di Gesù di Nazareth, tanto è vero che alla fine concludo dicendo che ognuno di noi è chiamato a scrivere il cosiddetto Vangelo. C'è la propria esperienza che abbiamo fatto di Gesù di Nazareth. Però vorrei, Paolo De Martino, soffermarmi su questa parola esperienza. Noi qui nel posto delle parole ci chiamiamo così anche perché amiamo, come diciamo, inciampare nelle parole. Quando ti inciampi te ne accorgi. Ora, la parola esperienza, oggi come oggi, spesse volte non viene nemmeno più usata in italiano. Si parla di experience, no? E potremmo dire qual è l'experience che questo signor Matteo ci mette nella condizione di vivere. Ora, l'esperienza è qualche cosa di cui io faccio conoscenza. E se faccio conoscenza ho un dato di fatto pratico, ho una verità di fronte a me. Se io vivo l'esperienza, che ne so, del parapendio, cosa che non farò mai. Ma se vivo questa esperienza, provo il brivido, la passione, l'attesa, la paura. Insomma, provo delle sensazioni importanti e meno importanti. E qual è l'esperienza più profonda che ci pone Matteo con le sue parole? L'esperienza che Matteo fa è quella descritta appunto nel titolo. Matteo fa l'esperienza di essere guardato, di essere guardato da Gesù di Nazareth. Ricordiamo allora il quadro di Caravaggio, la chiamata di Matteo. E qui a proposito dell'essere guardati, anche se in copertina lei non trova Caravaggio, ma troviamo Giotto. Perché a me è sempre colpito, ed è l'esperienza grande di Matteo, lo sguardo di Gesù raccontato nei Vangeli, che è di una portata straordinaria. Io credo che noi cambieremo vita quando incroceremo il suo sguardo, quando appunto faremo esperienza del suo sguardo. Che è uno sguardo che vedeva sempre oltre, ma perché come dico del libro, l'amore vede sempre oltre. Cioè Gesù guarda Matteo e non vede un ladro, ma vede un uomo semplicemente bisognoso di fiducia. Ma perché Matteo racconterà la sua esperienza? Perché Matteo ci dirà in tutto il suo Vangelo che è bello sapere che anche noi siamo visti così. Cioè quando noi ci guardiamo dentro e vi troviamo solo buio, Dio ci sta guardando semplicemente come figli amati alla follia. Ecco io nel libro dico proprio che se imparassimo a guardarci con gli occhi di Dio, noi impareremo anche ad accettarci un po' di più, ad amarci un po' di più e anche a stimarci un po' di più, trasformando così magari anche la nostra vita. A proposito della chiamata, vedo qui, delle sottolineature, tra le altre, no? No, Gesù li raggiunge nel luogo di lavoro, non nella sinagoga o nel tempio, non in un momento di preghiera, ma sulla riva di un lago con in mano le reti. È davvero stupenda questa partenza. Gesù non chiede se sono fedeli alle preghiere, non li interroga sui dieci comandamenti. Gesù li invita a stare con lui. Ora, è anche questa un'esperienza dello stare. Ecco, semplicemente lo stare, come faceva quella donna ai piedi della croce, Stabat Mater, a vivere e condividere quei momenti. È l'esperienza che farà anche Matteo. Gesù non chiederà a Matteo né di pentirsi né di fare sacrifici. Matteo ci dirà nel suo Vangelo, guardate che la fede non è un sacrificio, guarisce la vita, non è la mortificazione che la lode a Dio, ma è una vita piena, felice, appassionata. D'altra parte, qual è il merito dei peccatori? C'è nessuno. Sono coloro che non ce la fanno, ma che scoprono che Dio si è fermato a guardarli. Perché, e questo sarà l'amore, diciamo sì, scusi, il messaggio bello di Matteo, che l'amore non si merita, si accoglie. L'amore non si merita, si accoglie. Gesù cerca proprio il peccatore che è in noi per impadronirsi, potremmo dire, della nostra debolezza e inabitarla. Ecco, verrebbe da dire, nel libro lo dico, beata debolezza, cioè meno male che siamo deboli, meno male che siamo feriti, meno male che siamo peccatori. Non perché ci dobbiamo impegnare nel peccato, nel peccare, nel commettere il male, ma perché siamo così, siamo uomini feriti dal male, quindi commettiamo i nostri peccati. San Francesco di Sales diceva che noi peccheremo fino a cinque minuti dopo la nostra morte. È un modo elegante per dire che per quando ci impegniamo non ce la facciamo, ma è bello sapere che Dio però ci guarda sempre come figli amati alla follia. E forse le parole non hanno nemmeno necessità di essere dette. Se prendiamo spunto proprio dal titolo di questo libro, L'amore in uno sguardo, è anche lo sguardo di Gesù, che è ripreso qua in copertina dall'affresco del cappello degli Scrovegni. Quanto conta lo sguardo? Quanto conta lo sguardo è rivolto a qualcun altro, e questo qualcun altro a sua volta ci guarda. E qui il rapporto del volto dell'altro, quanto ha lavorato la filosofia di Levinas su questo, no? Ancora prima di Levinas, l'amore in uno sguardo di Cristo, credo che sia una forza esperienziale straordinaria, ma per loro era possibile, perché lo potevano vedere. Per noi che non possiamo vedere, ci possiamo semplicemente affidare al detto di Paolo che fede e credere alle cose che vedi e sperare in quelle che non vedi? Oppure c'è un'altra strada? Beh, Matteo capitolo 25 ci dirà che noi possiamo incontrare Cristo nel volto dell'altro. Le famose sei vie per incontrare Dio, avevo fame, avevo sete, come amo ripetere, sono sei vie che ci portano a Dio e non ce n'è una che riguardi la preghiera, ma tutte riguardano l'uomo, riguardano i bisogni dell'uomo. Matteo dirà questo nel suo Vangelo, percorri l'uomo e incontri Dio. Nel volto dell'uomo tu incontri Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di amare l'uomo. E Matteo dirà semplicemente questo, e il capitolo 25 ci dirà appunto che è possibile amare Dio anche amando solo l'uomo, anche non amando Dio in maniera esplicita. Matteo racconterà quello che normalmente viene detto il cosiddetto giudizio universale, lo racconterà per dirci come posso incontrare Dio anche se non lo conosco. Anche un ateo può incontrare Dio, lo incontra amando l'uomo. Paolo De Martino, però, a volte sembra di uscire dal mondo, no? Parlando di queste cose, uscire dalla nostra realtà, crearci un santa santorum dove tutto potrebbe essere possibile, poi ti scontri con la realtà, esci di casa, non sai dove andare, a casa hai dei problemi con chi vivi, il lavoro non sta andando bene, la situazione non è bella per tutti. Certo, potremmo dire che è sempre stato così anche i tempi della predicazione di Gesù, dei tempi in cui Matteo scriveva il suo Vangelo, ma oggi queste parole come attraversano il nostro spirito del tempo? La bellezza dei Vangeli è che parlano di noi, parlano della nostra storia. Cioè Matteo in fondo ci racconta la nostra storia, Matteo e i Vangeli ci dicono che io posso incontrare il Signore nella sofferenza, posso addirittura incontrarlo nella morte. Quando all'inizio del Vangelo Matteo racconta la storia di Giuseppe, lo sposo di Maria, Matteo racconta la nascita di Gesù dal punto di vista di Giuseppe, non di Maria, quello sarà Luca, ma lui non ci racconta la storia di Giuseppe per dirci come era bravo Giuseppe, perché a noi non interessa assolutamente nulla come si è comportato Giuseppe, lui ci la racconta per dirci guarda che la tua vita, caro Paolo, metto il mio nome, ognuno mette il suo nome, la tua vita è proprio come quella di Giuseppe, che magari progetta, ha dei sogni, e poi arriva qualcosa e ti sconvolge la vita, il lavoro che cambia, una malattia, una sofferenza, e allora cosa devi fare? Devi rigiocarti la tua vita. L'esperienza che ha fatto Giuseppe, cioè i Vangeli parlano di noi, i Vangeli parlano della nostra storia, parlano della nostra sofferenza, parlano delle difficoltà che abbiamo, e che io credo che noi dobbiamo fare un grande sforzo, e in qualche modo cerco nei miei libri, di far toccare con mano come i Vangeli davvero parlano dell'esperienza dell'uomo, parlano della mia vita di tutti i giorni, e questa è anche la bellezza, la grandezza del messaggio di Gesù di Nazareth, che come dice appunto la parola Vangelo, è una bella notizia. Questa bella notizia è che Dio ti ama indipendentemente da quello che fai, indipendentemente dal tuo comportamento. Gesù non viene con obblighi di vieti soprattutto, e poi per gli obblighi di vieti ci ha pensato qualcun altro. Ieri ha pensato il suo libro, Paolo e Martino, guardando nel corso della Messa Domenicale alla presenza e all'età media, e ripensavo proprio alle sue pagine, in cammino con Matteo e mi chiedevo perché questo cammino è così pieno di teste con i capelli bianchi e non c'è quel dubbio, quella speranza, quella simpatia, diciamo anche antipatia dei ragazzi, che ci sta, perché si vive tutti in maniera normale. Perché questa desertificazione della Chiesa? Nel Concilio Vaticano II, a un certo punto, i padri conciliari dicono che una delle cause dell'ateismo, io la racconto sempre quando vado in giro per l'Italia a raccontare questo, i padri conciliari ci dicono che una delle cause dell'ateismo è la cattiva immagine di Dio che noi abbiamo trasmesso. Noi per secoli, non per anni, per secoli abbiamo trasmesso un'idea terrificante di Dio. Qualcuno scherzando dice che i giovani si allontano per legittima difesa. Io insegno nelle scuole superiori e quindi li incontro tutti i giorni. Alcune volte davvero io gli devo dare ragione quando mi dicono ma io non credo in Dio che è così e io dico ma nemmeno io. Ma io non credo in quell'idea, ma nemmeno io. Ma una volta che lei ha detto a questo ragazzo nemmeno io e poi che cosa succede al di là dell'incontro che lei ha con questi ragazzi, a livello di chiesa, di istituzione, che cosa cambia? Cambia che se si manifesta, se si trasmette un'idea bella di Dio le persone poi si innamorano di Gesù Cristo. Certo all'inizio bisogna cercare come amo ripetere di parlare di Dio senza parlare di Dio. Cosa che infatti farà Luca? Luca che parlerà a dei pagani, Luca userà nel Vangeli giustamente il registro della misericordia, cioè il registro dell'amore che è un registro che tutti riusciamo a comprendere. Matteo, ad esempio, parla degli ebrei quindi citerà tantissimo l'Antico Testamento. Ecco, davanti a un giovane mai partire parlando di Dio in maniera, potremmo dire, quasi esplicita. Dopodiché verrà in lui il desiderio di farlo. Però funziona proprio come l'amore. C'è poco da fare. Nessuno ti può obbligare ad amare. Devi innanzitutto fare un'esperienza. Ecco, quando prenderai coscienza e ti avrò fatto fare l'esperienza che amare Dio è una cosa bella. Quando parlo dell'episodio della trasfigurazione Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni gli fa fare un'esperienza bella. Nelle chiese dove ci sono delle liturgie belle sono piene di giovani. Dove ci sono delle lezio divine belle le chiese sono stracolme di giovani. Non è vero che i giovani sono attratti da cose belle. Allora la domanda che ci dobbiamo fare è facciamogli fare un'esperienza bella di chiesa. Perché se non c'è un'esperienza bella di chiesa ma perché mai un giovane dovrebbe fare quell'esperienza? Perché a volte colui che sta all'ambone il sacerdote parla con la sua voce giustamente, ma parla più che della parola parla della sua voce nel senso che sentiamo che c'è un oiato tra la parola scritta e la parola che poi viene raccontata nel corso della predica. Lei pensa che anche questo ci sia vero? Sì, perché? Perché nei miei incontri io utilizzo la tecnica cosiddetta l'esegesi spirituale. Cosa vuol dire? Una cosa molto semplice. Noi siamo convinti che, come dicevo, il testo è stato scritto sia per la comunità alla quale si rivolgeva l'Evangelista ma anche alla nostra comunità. Io quando faccio le omelie e faccio toccare con mano cerco in qualche maniera, per carità, di far comprendere guardate che questa parola sta parlando di me oggi sta parlando del mio lavoro sta parlando del fatto che ho il mutuo da pagare sta parlando dei miei figli quella parola è stata scritta per me oggi. La parola è attuale non racconta, come amo scherzare, la storia della buonanima cioè di un tizio vissuto duemila anni fa. Ma purtroppo spesso e mi capita anche di sentire alcune omelie, alcune prediche che sono più alcune volte uno sfoggio anche di cultura per far vedere come uno ha studiato ma è davvero il racconto della buonanima. Ecco, raccontiamo la storia di qualcosa che è successo duemila anni fa ma che ovviamente con la mia vita di tutti i giorni non ha assolutamente nulla a che fare. E allora spesso può capitare che siamo presenti magari anche in una liturgia eucalistica siamo seduti, l'ascoltiamo e poi è finita lì. Paolo De Martino, lei ha due figli e quanti anni hanno? Allora, la grande è 22 anni e il piccolo, tra virgolette, è 15 anni. Che rapporto hanno con la religione e con la Chiesa, anzi? Ma devo dire che hanno un rapporto bello che stanno riscoprendo sempre di più anche perché abbiamo io e mia moglie abbiamo sempre lasciato molta libertà molta libertà perché io in quello che dico almeno credo cioè ci credo devi fare esperienza devi fare esperienza dandogli anche questa idea di come possiedi di non accontentarsi del proprio cerchio della propria parrocchia hai un'esperienza bella che non è la tua parrocchia va benissimo vuoi fare quell'esperienza va benissimo se lì non ti trovi bene cambia vai altrove è l'esperienza che facciamo anche noi dell'amore non ci siamo accontentati della prima ragazza che abbiamo incontrato siamo andati alla ricerca quindi anche loro hanno un'esperienza altalenante all'inizio adesso stanno cominciando ad apprezzare certo dico anche sono tra virgolette anche fortunati perché sin da piccoli hanno respirato diciamo un ambiente di un certo tipo ma senza mai costringere quante volte si respira un ambiente di un certo tipo e poi i figli stessi abbandonano abbandonano la chiesa e questo è è un tasto su cui bisogna calcare l'attenzione e non è mai abbastanza raccontato noi non siamo andati fuori registro con questo tema rispetto al libro l'amore in uno sguardo perché lo sguardo tocca sì il Vangelo ma tocca di riflesso anche la nostra vita di oggi come è giusto che sia la nostra vita di domani siamo stati in cammino con Matteo grazie a Paolo De Martino che ha scritto questo libro pubblicato da Gabrielli ma prima di salutarci Paolo De Martino qual è il libro che ne fa compagnia in questi giorni? in questi giorni sembra strano ma sto leggendo un libro che ha a che fare con il diaconato è appena stato pubblicato della nostra della nostra diocesi perché ovviamente nel mio ministero anche nel mio scrivere c'è molto anche della mia esperienza cioè di una persona consacrata ma anche sposata che lavora e quindi mi sta accompagnando nella riflessione e meditazione di quello che è la figura del diacono che è una di quelle figure effettivamente ancora da riscoprire ed è una figura più che da riscoprire da scoprire per molti di noi penso Paolo De Martino mi scusi se faccio questa correzione ma in effetti è vero ma chi è il diacono? il diacono è stato definito in vari modi diciamo sì è la definizione forse più più utilizzata è l'uomo della soglia è l'uomo della soglia e sulla soglia c'è molta insidia come diceva il poeta Yves Bonfoy eh sì perché il rischio è quello di essere molto clericalizzato diaconi che sono dei mezzi preti sostanzialmente ma perché molti diaconi giocano a fare a essere più preti dei preti stessi lei che è diacono si dà una risposta a questo? beh mi verrebbe da dire c'è la versione non ufficiale nel senso che alcuni forse vivono un po' la frustrazione di quello che vorrebbero essere ma non possono essere alcuni per qualcuno effettivamente è anche un modo per esercitare un piccolo potere siamo umani tutti abbiamo bisogno di esercitare un piccolo potere e quello può essere un piccolo potere il fatto di essere lì sull'altare delle persone che ti guardano eccetera eccetera e alcune volte diciamo incontrare anche i diaconi forse che si fanno prendere un po' troppo la mano però la parola diacono porta in sé un verbo straordinario che è il verbo servire ed è questa la cosa importante dell'essere diacono grazie davvero Paolo De Martino del tempo che ci ha dedicato buonasera grazie a voi a tutti buonasera grazie a voi